La Lega Nord sbarca nelle regioni del Sud, Bossi invia i suoi parlamentari in Puglia ad aprire sezioni e a fare campagna elettorale, vuole un europarlamentare leghista ma meridionale. La Puglia pensa ad un partito del Sud pronta la contromossa di Bossi che ieri ha inviato a Bari tre suoi parlamentari, deputati Fava, Fedriga e Torazzi per annunciare che la Lega Nord sarà presente con una propria lista nella circoscrizione meridionale per le elezioni europee, ma non solo, sarà presente anche alle elezioni comunali di Bari con propri candidati ad una lista che appoggerà Simone Di Cagno a Brescia. Non vogliamo colonizzare il Sud, hanno detto gli inviati di Bossi, ma solo proporre le nostre battaglie anche ai cittadini meridionali perché sono condivisibili. La sicurezza, il federalismo, la lotta alla criminalità e all'immigrazione clandestina. Su questi temi Bossi chiederà voti ai pugliesi e spera addirittura di poter eleggere nel Sud un parlamentare europeo. Nel pomeriggio, per passare dalle parole ai fatti, i tre inviati della Lega si sono spostati a Mottola nel Tarantino, dove hanno inaugurato una delle prime sezioni della Lega Nord nel Sud Italia. Non è la prima volta che Bossi sbarca da noi, ci ha già provato altre volte con proprie liste, ottenendo però scarsi, anzi ridicoli risultati. Ci provano nuovamente adesso sull'onda del successo ottenuto con Berlusconi alle politiche dell'anno scorso e punta addirittura a conquistare un euro parlamentare. Per eleggerlo, ha bisogno nelle regioni della circoscrizione europea meridionale, e cioè Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, di almeno 200 mila voti. Una cifra che ci sembra oggettivamente indisponibile per un partito che già nella denominazione sociale si definisce del Nord. Ma i pazzi, si sa, ci sono ovunque. Ovviamente non giudichiamo pazzi in generale gli elettori della Lega Nord, anzi, tutt'altro. E nemmeno giudichiamo pazzi quei settentrionali che residenti al Sud voteranno molto probabilmente Bossi. Certo però i meridionali che lo facessero, quelli sì, sarebbero veramente dei pazzi autolesionisti, come definirli, suicidi, anche se, diciamoci la verità, da Bossi ci sarebbe molto da imparare.